Allora, benvenuto, complimenti per la tua esibizione di ieri sera, dell'altro ieri sera, dell'altro ieri sera ancora, accompagnato, ricordiamo Da un corista d'eccezione, come lui stesso ha detto Eh sì, lui corista d'eccezione che però dice, per favore, lasciatemi fuori dal glamour Eh vabbè, mi sembra il minimo, voglio dire È direttore d'orchestra Nonché direttore, hai ragione, sì Senti, ma la tua storia musicale però non è solo da sempre stata da solista, come si stava? Bene, in compagnia? Beh sì, devo dire che ho attraversato gli 80 con Punti De Nove, è stata una piacevolissima esperienza Anche perché mi ha permesso di entrare a far parte del mondo della musica, sai, dalle cantine alla ribalta Siciliani eravate, ah, tu catanese Tutti siciliani, non a caso due siciliani e stasera il duetto con Carmen Consi, facciamo proprio il grande catanese Eh proprio, non volete mollare l'osso, eh? No, no, è un vizio, una roba tavica che ci portiamo a vedere È proprio una cosa mafiosa, un po', diciamolo, in senso buono No, la mafia, diciamo, siciliani, mafia, come si può cantare bella ciao Mafia musicale Allora, il gruppo era composto in passato da tuo fratello Gabriele Sì, da Tony Carbone al basso E Mario Venuti E avete fondato appunto i De Novo, sempre molto radical chic, un po' snob ancora oggi Eravamo così? Dicono? Vabbè, sai, facciamo sto mestiere anche per appagare la nostra venità Per cui sentissi dire queste cose, tutto sommato fa piacere No, in realtà abbiamo una grandissima passione per la musica, l'abbiamo sempre fatta in modo molto borderline Non a caso ancora 30 anni dopo io sono qua con una canzone che si chiama L'Alieno In realtà mi sento tale in questo fronte Perché ti senti un alieno? Un po', perché insomma in questa società, sai, non mi riconosco molto nello stile comuni di vita, diciamo così Ecco, però gli alieni in questo caso, quest'anno, non ti è sembrato strano? Dunque stasera voi canterete, adesso voglio vedere con chi canti tu stas, con chi mi... Ah, già me l'hai già detto, la Consoli La Consoli Altra seggio leana, da dove? Ovviamente, from Catania From Catania, tutti from Catania No, ho battiato from Ionia Ah, è ben somma, è lì, around Allora, questo gruppo di sicoli, questa sera, sicoli doc, un po' snob, radical chic, ti piace tutta questa definizione? Radical chic, è come dire un po' bellodento, sono quei termini che hanno meglio, da pelle d'oca Beh, piace molto dirlo, diciamo, quando si devono indicare i cortei Allora, che fanno un milione di persone Allora, oramai io, ragazzi, oramai ho gettato la scuola Per la questura 3, sempre Per la questura 3, ma siccome io oramai vengo segata fuori, platealmente, da Rai 1 a 2 anni Mi permetto oramai di dire quello che voglio, tanto non ho più nulla da perdere, come si può dire, no? Anzi, ho guadagnato la 7 e un bel Rai 2 E più Monte Carlo Allora, senti, stasera Carl Benconsoli Però chi non canterà al palco dell'Arist sono Anna Oxa, due perdite importanti E Patti Pravo con Morgan, che proprio su questo palco non ha da venire E lì mi dispiace perché, vedi, aspettavo Marco con Gioia, siamo tutti amici, mannaggia E lui giustamente si rifiuta di venire anche a Domenica Inn, perché dice, non mi fate venire a Sanremo La maledizione, la maledizione di Sanremo si è battuta un'altra volta sulla testa di Morgan E veramente siamo tutti disperati, veramente No, ma veramente, proprio come amici, insomma, era carino No, ma anche come artisti Invece, ripescaggio, diciamo, si sapeva bene o male perché entrava in gioco il televoto Ripescati Albano dal televoto e Anna Tadangelo dal televoto Ma attenzione, dal televoto, perché la giuria demoscopica questa volta era stata spietata Non ci trovi un po' Io oggi ho scritto un articolo per la stampa che purtroppo è uscito solamente in zona qui, in Liguria Io ero convinta di averlo scritto per l'Italia, invece solo per la Liguria Che si sa spendono anche poco per i giornali, quindi ne comprano uno, li leggono in 16 Scusa, giustamente mi dicono Non trovi che quest'anno il festival abbia preso un'aria diversa dal resto dei film? L'altro anno Emanuele Filiberto, Pupo No, devo dire una cosa, Morandi è una garanzia, intanto è un musicista, è un cantante Per cui sa cosa vuol dire salire su quel palco, sa cosa vuol dire l'emozione Conosce benissimo i problemi tecnici per cui un cantante deve sentirsi, deve sentire la propria voce Beh, per chi bravo dice che non si sentiva Eh, vabbè, ma... Vabbè, vabbè Per cui c'è un'atmosfera molto rilassata da questo punto di vista Poi vabbè, sappiamo com'è il festival, dai, tutto fa parte del circo, va bene così? Sì, mi hanno mai risposto, non trovi che le canzoni, diciamo, Battiato, Tula, Cruz Non facciamo finta in nasconde, ci fate parte di un certo giro di cantanti più raffinati e senz'altro più di sinistra Ma io sono sicuramente, cioè, sono contento di tutto questo Ho ricomandato che questa giuria demoscopica ci abbia portato avanti E l'orchestra pure, quanto peserà l'orchestra e la demoscopia? Non ho ben capito, credo un buon 50%, forse era stasera E il televoto che poi porta in altre direzioni Non lo so, ora sto man mano capendo da quello che scrivono i giornali, come vanno le votazioni Ma va benissimo così, figurati Allora, dai un bacio abbattiato da parte nostra Sicuramente, sicuramente Ma c'è, non è un cartonato quello che vediamo No, 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 è verissimo Io ogni volta che vado, dato che lui mi appara le spalle, dico, ma verrà stasera o mi lascia di solo? Hai avuto questo sospetto che ti potesse anche lasciare da solo? No, si sta divertendo molto, è piacevole sta cosa Senti, allora ancora in bocca al lupo per questa sera Questa sera diciamo un gruppo totalmente siciliano E chissà che il televoto non aiuti anche voi I siciliani votano Il televoto non credo No, però non importa, avete la giuria demoscopica, avete la giuria di qualità, avete l'orchestra E' uscito anche il sole, dai va bene E' uscito il sole finalmente, perché c'eravamo tutti praticamente ristretti Grazie ancora, un bacio grandissimo Grazie, ciao a tutti E viva la Seceglie Grazie Ciao